Non posso lasciarti solo un momento e mettimi subito fuori dei tuoi altri migliori. Attene Samanta che Alberto è un sedutore. Samanta? Sì, ci siamo presentati ora. Che c'è Samanta? Io sono... Ma ti ha detto Samanta che ci fai mettere in raguai. Ecco, sì. E quando te va dentro? Allora, questo mi immagino sia il prezioso black. Sì, quando si ammirano un quadro di questa entità, si attiva quella zona del cervello che si mette in moto quando si è innamorato. Innamorato. Interessante. Sì, è per questo ci piacciono tanto i quadri. E' che quelli che ci emozionano attivano la dopamina. Dopamina? Sì, la dopamina. L'ormone del piacere dell'appagamento. White e white. Oh sì, ti trovo. Sì. Preperabilioso. Sì, è luminoso. Luminoso, luminoso. Ma non vedete le esperiature? Come no, come no. Vero, Samanta. Sì, conferiscono una certa luminosità. Direi. Sì, perché il piacco è il colore del bene. E' un colore che esprime inizio, novità, inocenza. Essendo il colore del bene, io ogni volta che lo guardo, non ci sento. Sì, conferiscono una certa luminosità. Sì, conferiscono una certa luminosità. Grazie. Grazie.